È da un ventennio ormai che per diventare insegnante è indispensabile essere laureati ed è da sempre che amministrazione e sindacati parlano di funzione docente identica per tutti dalla scuola dell'infanzia fino all'ultimo anno della secondaria di secondo grado. Nonostante tutto gli stipendi dei docenti sono diversificati ed è così che a fine carriera un professore di liceo guadagna mediamente il 20% in più rispetto ad un suo collega dell'infanzia. Potrebbe quindi essere arrivato il momento di rivedere un po' le cose. E a questa ipotesi sta già pensando l'onorevole Fausto Raciti, deputato del PD che proprio il mese scorso ha depositato in Parlamento un disegno di legge sul tema delle retribuzioni dei docenti della primaria e dell'infanzia. L'intenzione è proprio quella di equiparare gli stipendi di maestre e maestri a quelli dei professori dei licei. Ma non sarà facile perché neppure i sindacati ne sono del tutto convinti. D'altronde in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale se n'è già avuta una prova. L'atto di indirizzo della ministra Madia prevedeva infatti espressamente un aumento medio di 85 euro ma con la clausola che gli incrementi dovevano essere maggiori per gli stipendi più bassi e meno pesanti per le retribuzioni più alte. Alla fine però sindacati e parte pubblica hanno preferito seguire una strada diversa e cioè riconoscere a tutti lo stesso incremento del 3,48%. E basta un semplice calcolo per capire che in tal modo la forbice fra gli stipendi non solo diminuisce ma addirittura aumenta. Se ad uno stipendio lordo di 1.500 euro di una maestra si applica un aumento del 3,48 si arriva a 1.552 euro. Se la stessa percentuale la si applica ad uno stipendio di 1.800 euro si arriva a 1.862. E così se prima dell'aumento la forbice era di 300 euro dopo gli aumenti la differenza arriva a 310. E' del tutto evidente invece che per diminuire la forbice bisognerebbe riconoscere aumenti con percentuali diverse. Per esempio il 2% ai professori di liceo e il 5% ai maestri che è esattamente ciò che con l'ultimo contratto non è stato fatto. Se poi si parla addirittura di equiparazione totale degli stipendi la situazione si complica ancora di più e ci vorrebbero risorse davvero notevoli per aumentare le retribuzioni di tutti portando però gli stipendi di maestre e maestri al livello dei professori di liceo. Perché ovviamente nessun sindacato potrebbe mai accettare di sottoscrivere un contratto in cui le risorse vengano usate quasi esclusivamente per aumentare soltanto gli stipendi più bassi. Comunque non appena si conoscerà il testo del disegno di legge vedremo in che modo il deputato Raciti intende risolvere il dilemma. Il tema è sicuramente interessante quindi continueremo ad occuparci e in particolare seguiremo l'iter parlamentare del disegno di legge Raciti e ve ne daremo conto. Voi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it seguiteci, leggeteci ma soprattutto scriveteci, mandateci i vostri commenti e le vostre osservazioni.